Buonasera da Simonetta Bo e da Sostiene Pereira. Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa per presentare RAI Dormitori. La sede RAI di Via Verdi in previsione delle Olimpiadi Invernali del 2006 diventa un albergo. Scenografi, registi, tecnici torinesi hanno ricostruito nei gloriosi studi della RAI le suite dei migliori alberghi del Sestria. Ogni camera è dotata di frigo bar, tv color, radio e idromassaggio. Stiamo riportando la RAI di Torino al ruolo che gli compete. Questa è stata l'affermazione del governatore Ghigo. Sostiene, guarda che dobbiamo sbrigarci. Perché dobbiamo rifare la stanza 119 e ripulire la O. Dai, dai. Previsioni del tempo. Domani sul lato dei numeri dispari di Vianiz. Fiocca. Buonasera.